Un'altra piccola conquista per la Piana di Gioia Tauro e non solo il treno veloce di Trenitalia, la Freccia d'Argento raddoppia il servizio nella cittadina con ulteriori passaggi. Un successo non solo per il territorio pianigiano, ma anche per quello della Locride, visto che gli abitanti di quell'area, per arrivare nelle grandi città del sud, del centro e del nord, come Roma, Napoli, Firenze, con le ferrovie, devono arrivare a Rosarno. Tappa fissa è la stazione della Piana, vista la mancanza di un'arteria ferroviaria moderna e efficiente in tutta la fascia ionica calabrese, da Reggio alla provincia di Cosenza. La retratezza infrastrutturale in cui è stata lasciata quell'area è nota a tutti, non solo ferroviaria ad unico binario, ma anche una 106 che è diventata un caso nazionale, infiniti lavori di ristrutturazione e infiniti incidenti mortali. Quindi, passaggio in più di un treno veloce che non scorre su una linea ad alta velocità, in quanto la linea veloce si ferma a Salerno, non è che una amara consolazione, ma la notizia, è giusto che sia importante, viene entusiasticamente esaltata dal sindaco di Rosarno. Giuseppe Ida, la nostra città, afferma il primo cittadino, sta finalmente riconquistando il ruolo di centralità che posizione geografica, storia e prospettive di sviluppo impongono. Dopo l'istituzione, dallo scorso 11 giugno, di una fermata della Freccia d'Argento a Rosarno, dice ancora il primo cittadino, Trenitalia ha raddoppiato il servizio, prevedendo un'altra coppia di treni veloci che farà tappa nella nostra stazione. Si tratta di un risultato di fondamentale importanza per i cittadini della Piana e della zona ionica, la scelta aziendale di Trenitalia, che ringrazia a nome di tutti i rosarnesi, aggiunge ancora il sindaco, dimostra che la battaglia è iniziata lo scorso anno da sindaci e sindacati e sposata in pieno dai consiglieri metropolitani Zampogni e Zavettieri e dal consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, non era spinta da logiche campanilistiche, bensì da un'esigenza reale di un intero comprensorio che da troppo tempo era abbandonato a se stesso.